Sheriff, vorrei partire da questo impatto con Arezzo, come è stato? Ricordo che quando sei arrivato qua ti sei guardato anche lo stadio, è un bel teatro dove giocare così. Allora, quando sono arrivato, ho visto lo stadio, ho visto tutto, mi sentivo già un giocatore professionista, mi è venuto questo, come si dice, questo sentimento, questo sogno, diciamo, fin da bambino venendo in uno stadio così, dico, io sono già professionista, ho avuto un grande stadio, tutto bello, quindi c'è questo sicuramente qui, impossibile non far bene qua. E ancora non hai visto i tifosi in curva che saranno un altro bello spettacolo, questo te lo anticipo, ti chiedo come stai, come sono andati queste prime settimane di allenamento? Ora sto bene, non sono al 100, però diciamo sono verso 90-85, però sto molto bene, all'inizio ho fatto un po' di fatica perché era un po' che sono fermo, però ora sto iniziando a recuperarmi molto bene. Per chi hai scelto Arezzo, su di te ci sono grandi aspettative, no? Come succede per gli attaccanti, ma tu vieni da una bella stagione con il Ledertona, come è maturata questa possibilità di arrivare qui con la Maglia Marant? Io ho scelto Arezzo perché quando mi ha chiamato Giovanni, praticamente mi ha spiegato il progetto, mi ha spiegato tutto, io ero molto convinto perché io da quando sono arrivato in Italia stavo cercando una società come questa, una società che vuole vincere, che ha l'unico obiettivo e vincere, è questo che io sto cercando perché purtroppo io devo vincere, devo vincere, sono obbligato a vincere perché sono extracomunitario, quindi io ovunque vado a giocare, una società che vuole vincere io metto tutto dentro perché se non vinco alla fine prossimo anno mi ritrovo ancora a giocare in Serie D, quindi per realizzare questo sogno fin da bambino devo dare tutto ogni partita, 100% per arrivare a realizzare un sogno da quando sono bambino. Che attaccante sei? Prima punta, un centravanti, sei bravo a coprire la palla, sei anche veloce nell'allungo, mi dici un po' le tue caratteristiche. Sì, io sono un attaccante centrale, ho sempre fatto una punta centrale, ho fatto anche seconda punta, tipo due punte davanti. Il mio gioco è attaccare di più la profondità, ma ogni tanto vengo incontro, però il mio gioco è la mia potenza, è la velocità, è la forza, è attaccare la profondità, questo è il mio gioco. Se ti guardi indietro, Sheriff, che cosa vedi? Tu hai una storia intensa alle spalle, no? Tu sei liberiano, hai cominciato a giocare lì, poi sei arrivato in Italia. Ecco, se ti guardi indietro, il primo flash che hai, qual è? Questa domanda è difficile, non te lo so dire, però quando io, se mi guardo indietro, penso a tutto quello che ho lasciato indietro. Perché io, da piccolo, non è come qua, non avevo le scarpe da giocare, a volte giocavo scalzo, in Africa, senza pallone, mettevamo i plastichi insieme, tutto mettiamo come pallone, giochiamo. Quindi se mi guardo indietro, questa passione che ho avuto fin da bambino, la sofferenza, la fame, quindi questa cosa, penso a questo, io ogni partita mi viene in testa, vado a mille. Tu abitavi a Morrovia, giusto? Sì, sì, abitavamo a Morrovia, nel capitale. Come sei arrivato in Italia, Sheriff? Io sono arrivato in Italia attraverso un viaggio dell'inferno, noi lo chiamiamo così, da Liberia, attraversato Mali, Niger, arrivando a Algeria, dove sono stato quasi un anno, e da lì sono andato in Libia, dove sono stato ancora un altro anno prima di arrivare qua, perché sono partito dal 2014. Che sensazioni ti ha lasciato quel viaggio così lungo, sia in termini di chilometri, ma anche in termini di tempo? Allora, il viaggio è durato due anni, non perché è lungo due anni, è perché io, quando sono arrivato in Algeria, lì devo fermarmi per lavorare, ho fatto diversi lavori, ho fatto muratore, ho fatto il contadino per guadagnarmi un po' di soldi, per avere il mio trasporto, per ancora continuare il mio viaggio. E da Algeria lì, dopo quasi un anno, sono andato in Libia, arrivando lì ancora quando non ho i soldi, e lì ancora devo fare un altro lavoro, qualsiasi lavoro mi offrono un muratore, un contadino, io lavoro per avere questi soldi, dalla parte usare per mangiare, dalla parte pagare il mio viaggio per entrare in Italia. Hai mai avuto paura di non farcela, di non arrivare? Sì, 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 la terza volta che sono stato in prigione, quando mi hanno catturato dentro l'oceano. In Libia? Sì, sì, in Libia. E lì ho avuto paura, molta paura, che ho detto adesso, in questa prigione, o entro in Italia, o muoio qua, perché avevo visto tante cose brutte, c'erano persone dentro quel prigione, da Guinea, da tanti paesi diversi, che sono stato in quel prigione lì per due anni, un anno, tre anni. Però io sono stato, diciamo, io sono stato fortunato, perché quando sono arrivato lì in quel prigione, dopo un mese, due mesi, è venuto un libico che cercava dei lavoratori, mi ha preso dentro quel prigione, ho lavorato per lui per diversi mesi, mi ha pagato, e poi da lì era il mio, l'ultimo, diciamo, chance che dico, ora entro in Italia, o se vengono a catturarmi, io mi butto dentro l'acqua, perché non voglio più tornare indietro, in prigione, capito? Però per fortuna, con l'ultimo viaggio lì, siamo arrivati a Lampedusa, dove è venuta la muassa, non era la muassa, era così, così salvavano la gente, ci hanno salvati, però avevamo avuti 21 morti. Ecco, è un ricordo, credo che ti resterà addosso, no? Per tutta la vita. È un ricordo che io non dimenticherò mai nella mia vita, non serve che lo scrivo, perché ho visto delle cose che io non dimentico mai. Quando sei arrivato in Italia, Sheriff ti ha salvato il pallone, ti ha salvato Vittoria, che poi pochi mesi fa è diventata tua moglie, italianissima Vittoria. Sì, 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 giusto, giusto, è lei che mi ha chiamato la vita, praticamente non è il calcio, perché appena arrivato non pensavo a giocare, pensavo a sistemarmi un po' la testa, a dimenticare quello che ho passato, poi ho trovato l'amore, lei mi aiuta di più, mi fa anche il mental coach, mi dà la forza, diciamo, perché a volte anche l'anno scorso quando giocavo, quando non faccio gol vengo a casa, arrivo a casa incazzato, è matto e lei mi dà un po' la motivation, il giorno dopo vado in elemento molto più carico. E tu sarai il mental coach in qualche modo, tra virgolette, anche di Samaché, di Boubacar, so che siete in camera insieme, anche lui ha bisogno di una spalla per inserirsi, no, nella rete? Sì, sì, noi ci aiutiamo perché a volte, lo dico delle cose che conosco, magari lui non sa, e anche lui a volte mi dà delle idee che non so, e anche lui sa perché anche lui è un attaccante che ha fatto dei gol l'anno scorso, quindi a volte ci cambiamo un po' di consigli per migliorare, perché siamo qui per migliorare, per far bene, per essere protagonista di questo campionato e prossimo anno sperando che siamo già nei professionisti, il sogno che abbiamo sempre voluto fin da bambino. Ti chiamano lo sceriffo e sei arrivato anche a toccare la nazionale, giusto? Hai avuto la convocazione con la Liberi? Sì, 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 quest'anno ho fatto tre presidenze in nazionale, era contro Benin, Burundi e Sierra Leone. Sì, è stata una emozione grande, una grandissima emozione. In bocca al lupo, Sherry. Grazie, grazie mille.